Nel 1941 prende avvio il progetto Manhattan, che aveva lo scopo di costruire una bomba atomica. A Dohack Ridge, nel Tennessee, venne costruito un centro di ricerca diretto da Robert Hoffheimer, a cui lavorarono molti scienziati tedeschi sfuggiti al nazismo. Quattro anni dopo, il 16 luglio del 1945, la prima bomba atomica della storia esplode in un test svoltosi ad Alamogordo, un poligono che si trovava nel deserto del New Mexico. Il nome in codice dell'operazione era Trinity e la bomba venne erolicamente chiamata il Gadget. Tra il 1941 e il 1945, un gruppo di scienziati americani sviluppano la bomba atomica, che viene provata per la prima volta il 16 luglio 1945. La difficile decisione di gettare la bomba atomica in Giappone toccò al neoeletto presidente Harry Truman. L'obiettivo era dare una prova di forza definitiva e far terminare in fretta la guerra col Giappone. Ma fu certamente anche una dimostrazione nei confronti del potente alleato sovietico. La prima bomba atomica, nome in codice Little Boy, viene lanciata sulla città di Hiroshima il 6 agosto 1945. La seconda, nome in codice Fat Man, tre giorni dopo su Nagasaki. Pochi giorni dopo, il 14 agosto del 1945, il Giappone si arrende. La testata nucleare lanciata su Hiroshima produsse un'esplosione di ben 15 chilotoni, che corrisponde ad una forza di 15.000 chili di esplosivo. Se questa testata nucleare fosse esplosa nella città di Roma, avrebbe questo effetto. Il raggio dell'area interessata dall'esplosione sarebbe di circa un chilometro e mezzo. Il cerchio giallo che vedete mostra il raggio della palla di fuoco che è stata rilasciata in seguito all'esplosione. All'interno del cerchio, quello rosso, il tasso di perdite di vite umane sarebbe quasi del 100% e tutte le strutture verrebbero completamente distrutte o perlomeno gravemente danneggiate. Nel terzo cerchio, quello blu, l'altra maggior parte degli edifici verrebbero distrutti e causerebbe molte vittime e feriti. Il cerchio verde, invece, indica l'area in cui si verificherebbero ustioni da radiazioni di terzo grado. Ma il potere distruttivo di questa testata non sembra nulla di fronte alla B83, l'arma termonucleare più potente nell'inventario degli Stati Uniti ad oggi. La B83, prodotta negli anni 70, avrebbe generato un'esplosione di 1200 kilotoni, cioè 80 volte la potenza della bomba sganciata su Hiroshima. Questo corrisponde ad una potenza di 1,2 milioni di tonnellate di esplosivo. Lanciata su Roma, l'area interessata dall'esplosione sarebbe stata di oltre 11 chilometri. Ma nel 1954 gli Stati Uniti creano e testano una bomba ancora più grande, mai più riprodotta, sotto il nome di operazione Kessel Bravo. Ha prodotto un'esplosione di ben 15.000 kilotoni, cioè più di mille volte l'esplosione di Hiroshima. Se questa testata fosse stata sganciata su Roma, il raggio dell'area interessata dall'esplosione sarebbe stato di oltre 35 chilometri. Tuttavia non è finito qui, perché esiste una testata ancora più potente e distruttiva. Fatta esplodere il 30 ottobre 1961, chiamata bomba dello zar dall'Unione Sovietica, è la più grande che sia mai stata fatta esplodere. Ha causato un'esplosione di 50.000 kilotoni, cioè più di 3.300 volte la dimensione della testata nucleare fatta detonare a Hiroshima. E la nuvola a forma di fungo risultante era così alta che qualsiasi cosa sulla Terra sembrava piccolissima in confronto. Se fosse stata lanciata su Roma, il raggio interessato dall'esplosione sarebbe stato di oltre 50 chilometri. E sarebbe stata visibile addirittura dallo spazio. La testata nucleare dello zar è stata prodotta più di 50 anni fa e si stima che oggi nel mondo ci siano oltre 15.000 testate nucleari. Se il trattato di non proliferazione nucleare non fosse stato firmato nel 1963, il mondo ora sarebbe sede di testate nucleari molto più potenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.